La comunità di Piraino attende che la Regione invì il decreto per ufficializzare il finanziamento per il consolidamento e il restauro della Chiesa Madre. È un piccolo museo, uno scrigno di cose preziose che deve essere riportato alla luce e deve essere messo a disposizione dei cittadini e di quanto apprezzano le antichità. Noi abbiamo avuto già la delibera fatta dalla Regione di 800.000 euro per il consolidamento della Chiesa. Non vediamo l'ora che si inizi, che ci sia il decreto e poi che il Comune faccia le gare, normale come debbono essere, quindi bandi di gara per poter iniziare. Perché quella è la Chiesa Madre e la Chiesa Madre è veramente bella, non solo ha bisogno di attenzione e non è soltanto un bacino di cose belle messe là dentro. Vi dico una tra le tante cose, lì è custodita una tela di Rosalia Novelli, la figlia del più famoso Pietro Novelli. Insieme ad altre cose importanti, nonché l'argenteria, l'artare stesso, come ha combinato gli stucchi. Insomma, è veramente bello. Poi pare che abbiamo trovato, non solo dove sapevate voi le mummie, quella nuova sepoltura, ma abbiamo trovato anche la vetusta sepoltura e la ipervetusta sepoltura. Quindi questo ci fa sperare che sia l'assessorato ai beni culturali, sia la sovintendenza che l'amministrazione possono, come si dice, davanti a questa realtà dolce, affrontare i problemi perché la Chiesa Madre diventi un punto di riferimento. Già lo è di per sé, ma diventa un punto di riferimento anche per il turismo religioso, è da due anni e mezzo che è chiusa e questo per noi è una grande sofferenza. Questo è il consolidamento, la mettiamo in sicurezza alla Chiesa Madre. Ma poi gioverebbe un altro intervento, un altro intervento perché l'interno deve essere restaurato. E quindi questo non te lo so dire. Questo allunga i tempi. Certo che a lunghi tempi, un anno, due anni, io spero prima, spero presto, spero subito, spero che le cose si facciano tappum, come si dice.